A Palazzo Ferrero, in corso del Piazzo 29 a Biella, un evento importante non solo in questo periodo. Chi si spende nel volontariato lo fa 365 giorni l'anno, con una grande passione e dedizione. L'evento sarà presentato da Massimo Zambon, Noi ci siamo, volontari col cuore e con la bussola. Ne discuteranno con l'autore Chiara Caucino, Assessore regionale, Gabriella Bessone, Assessore delle politiche giovanili del Comune di Biella, Isabella Scaramuzzi, Assessore servizi sociali ed altri esponenti del terzo settore. Presenti naturalmente anche numerose associazioni da Croce Rossa ad Aido. Noi ci siamo è un viaggio tra le motivazioni e le esperienze di tanti volontari che prestano la loro opera di età diverse e appartenenze a gruppi diversi. Persone meravigliose e unite che dedicano il loro tempo libero e fanno scelta di condivisione con chi ha una vita in salita. Grazie. Grazie.